Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un tema child per Divi chiamato Driving School. Nei video precedenti, che trovo in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, siamo andati a conoscere uno tra i più popolari temi per Warpers, appunto Divi. Siamo andati a visitare il suo sito per capire quali sono le sue principali funzionalità, abbiamo visto il suo prezzo, come ottenere supporto, abbiamo provato live il page builder che di fatto ci consente di andare a costruire quelle che saranno poi le pagine del nostro sito, ci siamo soffermati anche sulla vasta libreria di layout messa a disposizione da Divi, dove abbiamo visto come sia possibile con pochi clic importare un singolo layout e avere quindi una pagina di template pronta per il nostro sito, oppure importare addirittura un pacchetto di layout e avere di fatto quello che è un sito quasi pronto completamente. Dopo ancora siamo andati a vedere il marketplace di Divi, ovvero tutti quegli strumenti aggiuntivi sviluppati da autori di terze parti, quindi altre aziende, altri sviluppatori, che hanno deciso di sviluppare temi child, come nel caso del video di oggi, o estensioni, quindi stiamo parlando di plug-in, che gravitano appunto intorno al mondo di Divi. Direi a questo punto di non perdere quindi altro tempo e andare a vedere questo tema di oggi. Direttamente dalla home page del tema di Divi, troverai comunque poi il link qua sotto in descrizione, accediamo a quello che è il marketplace e andiamo a vedere il tema per oggi appunto Driving School. Come possiamo intuire è un tema child che lavora in quello che è il settore di mercato appunto delle scuole guida. Abbiamo un prezzo di 9 dollari e 99 nel periodo in cui sto registrando questo video il prezzo è scontato a 6 dollari e 99. Non abbiamo limiti di utilizzo per questo sito, quindi non abbiamo limiti di licenza, possiamo installarlo su quanti siti desideriamo e compreso nel prezzo abbiamo un anno di supporto ed aggiornamenti all'interno dell'anno. Andiamo un po' a vedere quali sono le parti di questo tema. Abbiamo due diversi layout, avremo due diversi layout per quanto riguarda i services, abbiamo un header, footer ovviamente, abbiamo il one click import, quindi se la demo che ci piace vogliamo possiamo con un click importarla e non ci resta a questo punto che modificare testi e immagini per avere il nostro sito pronto. Abbiamo più di appunto 15 pagine di template pronte ad essere utilizzate, abbiamo un homepage con varie sezioni che poi andremo a vedere di seguito. Abbiamo altre, appunto, quelle che sono le sezioni vere e proprie, sono più di 30 di fatto, quindi tra pricing table ci saranno le testimonianze, sezioni con immagini e foto, le ultime notizie dal blog, eccetera. Abbiamo due diversi layout per quanto riguarda l'archivio del blog, quindi gli articoli del blog, abbiamo vari preloader che possiamo scegliere, abbiamo il one click di cui abbiamo parlato prima e poi abbiamo un po' di domande frequenti qua, quindi direi a questo punto di andare a vedere direttamente quella che è la demo. Vediamo subito l'home page, abbiamo immediatamente una prima sezione dove abbiamo quella che può essere un'offerta o qualcosa che vogliamo promuovere all'interno della nostra scuola guida, poi i nostri profili social, subito sotto abbiamo un'altra sezione ancora prima del menu dove abbiamo il logo della nostra scuola guida, dove si trova il numero di telefono e subito il bottone con la forma di contatto. Arriviamo poi a quello che è il menu, vero e proprio, quindi abbiamo un menu con le varie pagine, con le varie sezioni, eccetera. Arriviamo quindi alla prima sezione vera e propria di apertura del sito dove abbiamo un'immagine di sfondo, abbiamo del testo sulla sinistra e una form già sulla destra dove possiamo trovare ed eventualmente andare a prenotare quello che è il nostro corso di interesse, per quale stiamo prendendo la patente e per quale vogliamo prendere la patente. Abbiamo questa prima sezione, è fatta a slider, quindi la forma rimane bloccata qua sulla destra, ma come possiamo vedere sia il testo che l'immagine di sfondo cambiano al cambiare dello slider. Subito sotto abbiamo una sezione suddivisa in tre parti, dove di fatto abbiamo quella che è le tipologie, diciamo le licenze di guida che si possono prendere in questa scuola guida, quindi per esempio qua può essere automobili, furgoni o comunque autocarri e autobus o comunque mezzi pubblici. Andiamo alla sezione ancora successiva, abbiamo un po' di quelli che sono i servizi magari offerti da questa scuola guida, quindi abbiamo suddiviso in tre colonne quelli che possono essere magari gli step o i servizi di questa scuola guida, abbiamo un'altra sezione poi con le about us, quindi abbiamo di fatto un'immagine di sfondo, abbiamo un box sulla sinistra che va a coprire l'immagine con un po' di descrizione e un bottone che possiamo decidere noi se mandare a una sezione più in basso della home page o a una pagina per e propria del nostro sito. Qua abbiamo un contatore per quello che può essere magari uno sconto nel momento in cui ci registriamo o ci iscriviamo per intraprendere un corso di patente. Abbiamo poi una prima sezione per quanto riguarda i services, quindi abbiamo suddiviso in quattro colonne con diciamo anche il formato a scacchiero, ovvero una colonna, un primo box più scuro e il successivo più chiaro, e sotto fate appunto a scacchiere con tutti quelli che possono essere appunto i vari servizi offerti. Abbiamo ancora un'altra sezione con quelli che sono ancora dei contatori, quindi possiamo mettere non solo le licenze di guide, le patenti rilasciate, da quanti anni sul mercato, quante ore sono state fatte appunto di lezione, eccetera, il numero degli insegnanti e via, e diciamo così possiamo scegliere. Abbiamo poi la pricing table, dove possiamo identificare diversi piani, per esempio per appunto prendere quella che è la licenza di guida, quindi ci sarà un piano dove magari sono comprese più ore di lezione o meno ore di lezione, questo poi dipenderà dalla tua realtà o dalla realtà del tuo cliente. Abbiamo un'altra sezione con quelle che sono le recensioni, cioè di chi ha preso la patente, di chi si è servito in sostanza di questa scuola guida, abbiamo tra il quote, quella che è la descrizione, la descrizione della recensione ed il nome molto semplicemente. Abbiamo un'altra sezione sempre con un'immagine di sfondo, con quelli che sono i corsi, quindi quali sono appunto le possibilità di corsi che si possono intraprendere appunto per prendere queste patenti, ognuno di questi ha un carissimo effetto over, quindi passando sopra con il mouse il corso si evidenzia di giallo. Abbiamo anche il prezzo per ogni singolo corso e la sua divisione tra cambio per esempio meccanico, cambio manuale, questo poi saremo noi a decidere cosa inserire all'interno di questi box. Abbiamo una galleria dove anche qua possiamo dividere, possiamo anche filtrare, quindi quelli che sono gli istruttori, quelle che sono le auto a disposizione, quelle che sono le aule o dove si tengono le lezioni e abbiamo poi su ogni foto il nome di quello che può essere magari, quello che qua viene definito project, comunque quello che può essere una sezione, quindi magari quella degli istruttori, poi rimandare al singolo istruttore per esempio. Scendendo ancora, abbiamo una sezione con una video presentazione, quindi abbiamo un video dove magari viene presentata la scuola guida, sezione successiva con quelli che sono gli istruttori, quindi gli insegnanti, per ogni insegnante abbiamo la sua foto e sulla destra una breve descrizione. Scendendo ancora, ritroviamo la mappa di Google, quindi dove si trova la scuola, quindi indicata dove si trova la scuola guida, e la forma di contatto per mettersi in contatto appunto con la scuola guida. Abbiamo un'altra sezione, sempre con un'immagine di sfondo, con quelle che sono le domande più frequenti, quindi possiamo già dare un po' di domande frequenti, e arriviamo poi a quello che è il footer, suddiviso in quattro colonne, dove possiamo mettere link utili, possiamo mettere delle descrizioni, possiamo mettere gli orari di apertura della scuola guida, ulteriormente di nuovo le informazioni di contatto, e poi arriviamo in fondo a quello che è il copyright. Andiamo a vedere qualche altra pagina interna, per esempio, abbiamo, vediamo cosa possiamo andare a vedere, possiamo andare a vedere il, per esempio, i corsi, quindi abbiamo la prima tipologia della lista dei corsi, quindi con un effetto over su ogni corso, abbiamo un logo e un nome di fatto di quello che è il corso, poi sotto abbiamo un'altra sezione con quelli che sono magari i partner, andiamo a vedere l'altra tipologia, invece la grid 2, come cambia, la seconda tipologia è quella che abbiamo visto poco prima nell'home page, quindi con cina più piccola, effetto over con, diciamo, un'evidenziata in giallo. Andiamo a vedere il singolo corso, singolo corso, abbiamo il nome del corso, una foto, diciamo, così, del corso, di quello che può essere la spiegazione del corso, sulla sinistra abbiamo tutta la descrizione di quello che imparerai, quello che, come è composto questo corso, quindi per esempio, anche degli accordi con le suddivisioni a lezioni, e sulla destra, una sidebar dove possiamo iscriverci a questo corso, e di nuovo la lista di quello che include, quindi le lezioni di guida, per esempio la guida in autostrada, un corso pre licenza, eccetera, insomma, comunque abbiamo varie informazioni che possiamo inserire all'interno di questo corso. Andiamo ancora a vedere, magari, quelli che sono gli insegnanti, quindi andiamo nel dettaglio di quelli che sono gli insegnanti, per esempio, per ogni insegnante, abbiamo la foto dell'insegnante, il nome, i suoi contatti, ovviamente relativi alla scuola guida, e da quando è istruttore, e qual è l'indirizzo, eventualmente, o altre informazioni che possiamo inserire. Bene, abbiamo visto che anche qua abbiamo diverse pagine a disposizione, dove appunto possiamo decidere quale utilizzare, o quale no, oppure che sezioni utilizzare, abbiamo visto che nelle varie pagine di fatto cambiano le sezioni, io direi che quello che rimane da capire è se questo può essere il tema che può fare al caso tuo, o di un tuo cliente, ed eventualmente procedere con quello che è l'acquisto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video, se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamolo scritto qua sotto nei commenti, in modo tale che io possa esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo Warp, su e-commerce, temi, plugin, Elementor, Divi, e spulciando all'interno del mio canale, non hai trovato quello che cercavi, lasciamolo anche questo scritto qua sotto, così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto, o qualche altra nuova idea, per qualche altro video di informazioni, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, attiva la campanella qua sotto, e seguimi nei prossimi video. Ciao!